buonasera buon mercoledì oggi un mercoledì un po più tecnico del solito quindi non avviene soltanto una scusate un discorso teorico ma abbiamo anche la pratica quindi una pratica che ci diverte ci ci può aiutare durante il nostro lavoro di sbarbatori il nostro divertimento nostro nostro hobby quello che vogliamo oggi vi volevo parlare di come lavorare il lavorare o smorzare saponi paste di sapone in ciotola allora per chi utilizza la ciotola chiaramente per chi utilizza il face lettering può essere indicata quasi unicamente la crema se è morbida si può utilizzare per il montaggio in face lettering fosse invece una pasta dura o comunque più consistente occorrerebbe comunque un passaggio in ciotola adesso vediamo due modalità lo vediamo uno con una crema morbida e poi lo vediamo con una pasta dura vediamo un po come tra l'altro questa di phoenix è anche abbastanza adattata quindi è ancora più dura di quello che dovrebbe essere ok vediamo verifichiamo un po intanto ho messo a bagno il un pennello in tasso abbiamo Duke Duke 3 questo è la versione pure badge tasso quindi pure badge vediamo il grado di comportamento di dei due prodotti che abbiamo visto tanto due ciotole quindi le utilizzeremo entrambe le asciugo questa asciugo perché era bagno il il prodotto lea vediamo un po questa teoria pratica allora crema crema quindi morbida crema morbida lea la mettiamo la crema morbida può essere posizionata al centro dove vogliamo il centro ai lati come come vogliamo utilizzarla la utilizziamo lea la mettiamo la mettiamo via la chiudiamo così non rimane in giro come raccolgo come raccolgo questa parte abbastanza elementare perché con la crema non ci sono problemi il problema avviene all'interno della ciotola con le paste dure quello sì perché ho detto che non ci sono problemi nella direzionalità di montaggio e di posizionamento della della ciotola perché non ho problemi a raccoglierla col pennello faccio semplicemente così e me la vado a raccogliere tutta vedete che non c'è più è tutta già incorporata all'interno del pennello quindi è un po al centro ma ha assunto addirittura la la forma della striscia ok quindi non faccio altro con la crema che aggiungere di aggiungere poco di acqua e nel montaggio viene distribuito poco alla volta si distribuisce la crema si si sposta e si distribuisce all'interno del ciuffo sembra elementare però e lo è però non è così scontato quando noi andiamo a utilizzare dei montaggi con due passaggi pochi passaggi non due pochi passaggi io sono andato a praticamente costituire un pieno montaggio all'interno del ciuffo di questo ciuffo pure badger non ho più molto all'interno della ciotola si è mangiato tutto il pennello questo è il primo montaggio ho sprecato un po di un po di crema ma è giusto e sicuramente per una giusta causa quella di vedere appunto come si comportano i preparati adesso arriva il bello adesso arriva il bello perché mi trovo di fronte a una pasta di sapone voglio fare la stessa cosa e vediamo innanzitutto prendo la pasta di sapone prendo non lo so vediamo questa è dura questa qui è dura questa pasta di sapone mi ci potevo radere quindi però ora faccio la stessa cosa la metto al centro no di questa ciotola la metto al centro più o meno la stessa co direzionalità che ho dato alla crema lea liberica lea e vado a fare la stessa cosa mi posiziono con sempre non avevo strizzato il pennello altrimenti mi fa danni nel montaggio vado a posizionarmi nella stessa maniera mi posiziono qua e guarda caso non succede niente il pennello non mi ha raccolto quello che volevo cioè l'ho proprio ho schiacciato come per la crema è rimasta tutta lì questo perché tutto questo lavoro per capire come andare a raccogliere invece la pasta dura la pasta dura necessita di essere spiaccicata sul fondo della ciotola questo per avere una maggiore superficie di lavoro quindi la pasta dovrà essere posizionata in questa in questo modo a tutta ciotola se io faccio questo lavoro o più superficie di lavoro usate la cacofonia lavoro lavoro a questo punto una volta fatto questo questo tipo di posizionamento sembrano cose elementari ma lo sono però in questo modo riesco già ad essere più omogeneo vedete che si inizia a spostare la crema già ha raccolto qualcosa a questo punto vale il discorso che avevamo fatto la settimana scorsa della sapone disidratato che non si stacca quindi lo devo andare a sciogliere io lo sciolgo piano piano si sta sciogliendo vedete che assume il il pennello assume la preparazione piano 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 ed ecco qua che la pasta si è andata a sciogliere mi è caduto un micro pezzetto si è andata a sciogliere e a questo punto posso gestirmi il montaggio già in viso se voglio ma se voglio aumentare ancora di più l'erosione della superficie del sapone in ciotola aggiungo ancora un po d'acqua lo sciolgo meglio e lo vado ad assumere all'interno del pennello non faccio schiuma perché la schiuma nella ciotola non serve a nulla la schiuma il montaggio lo deve fare in viso perché in ciotola praticamente quando vi mettete in ciotola in viso un sapone già schiumato in ciotola non vi state proteggendo questo è il montaggio avvenuto all'interno della ciotola dove c'è ancora un pezzettino sulla punta del dei ciuffi di sapone per il resto si è sciolto tutto questo è il pezzettino per il resto si è completamente disciolto magari completamente no però perché vedo che c'è un pezzettino si spegne la luce giusto nel momento in cui c'è qualche ombreggiatura quindi sapone però bene o male siamo riusciti a sciogliere tutto tutta la pasta di sapone queste sono le due grandi categorie di prodotti come vanno utilizzati come andrebbero anzi dirò di più come li utilizzo io all'interno della ciotola poi ognuno fa come vuole sicuramente però dal lato tecnico abbiamo visto che può funzionare ulteriore sapone che però si tratta di un sapone solido l'hard soap il sapone duro dove la dove il montaggio avviene all'interno della ciotola che nella confezione in cui è venduto oppure se è venduto senza la confezione va utilizzata una ciotola a parte ma quello è un altro discorso gli hard soap ci vuole una puntata a sé per poterne discutere visti questi due montaggi io spero che vi possano essere utili come come esperienza video e da riproporre nel nel vostro bagno quindi io adesso pulisco la pulisco le le ciotole il pennello e vi auguro buona serata buon mercoledì e noi ci vediamo sabato quindi ciao da mauro dal canale della rasatura del neofita ciao